Ciao amiche e amici dalla vostra Gattaluna. Oggi vi voglio parlare di una cosa che mi ha colpito molto. Ho appena finito di leggere la peste di Camus, che è un grande classico direi che si può dire che è un grande classico, che avevo letto dei brani, li avevo letti in francese alle scuole superiori. Da qualche parte a casa devo avere l'edizione francese. Però stavolta l'ho letta in italiano nell'edizione di Bonpiani con la traduzione di Yasmina Melawau, che mi dicono essere una traduzione nuova. L'originale era pubblicato da Gallimard nel 1947. Questo che io è stato dato alle stampe in Italia nel 2017. Ah scusate, una cosa che devo dire, perché basta che una volta non lo scrivo, me lo chiedete. Che rossetto hai su? Domanda legittima. E ve lo dico subito, questo è Heart Gas Boom di MAC Cosmetics. Ed è un fantastico rosso fucsia, rosso fragola, fate vobis. È opaco ma idratante. Bene, detto questo, che era la cosa più importante, del resto questo è un canale soprattutto di make-up e la domanda è del tutto pertinente. Ma tornando al nostro amico Camus, non leggerò gli appunti perché non li ho ancora presi, non li ho ancora scritti. Tanta era la voglia di parlarvi di questo libro. Allora, il libro questo qui, ho messo questa copertina, come vedete, molto lucente, molto lucente, che è una carta regalo, però mi ha stupito perché temevo si spaccasse subito, invece è piuttosto resistente, quasi plasticata. Non ve lo mostro perché appunto sberlucica molto. Dice, ma perché hai messo la copertina? Perché sulla copertina di questa edizione c'è l'immagine di una scultura fatta da una scultrice, credo, di cui adesso mi sfugge il nome, ma magari ve lo scrivo. Sì, perché è scritto qui, credo, dentro la copertina che io ho coperto, vi perdonerete. Comunque era un gruppo scultoreo di bronzo e sono dei topi. ho pensato che magari l'immagine poteva essere disturbante per qualcuno, perché è piuttosto brutta. Devo ammettere che l'immagine era piuttosto bruttarella, proprio dei topastri. E quindi ve lo presento coperto. Comunque vi assicuro che la peste di Camus, Edito Bonpiani, no? È proprio lui. Quando ho iniziato questo libro, che non è un librone come vedete, ma è denso e vi anticipo subito che siamo veramente dalle parti di un capolavoro assoluto, circa 300 pagine, mi ha subito rievocato Le notti della peste di Oran Pamuk, che ho letto poco fa, diciamo qualcosa, qualche mese, un mese forse fa, e di cui trovate, se vi interessa, la chiacchierata in merito sempre su questo canale. E magari vi metto il link anche nel spazio descrittivo del video. Ecco, questo mi ha subito ricordato, perché è chiaramente, e adesso me ne accorgo, Oran Pamuk, che appunto ha giurato e spergiurato, e non abbiamo motivo di non credergli, di non essersi ispirato assolutamente alla recente questione sanitaria, che tuttora è in corso, ma di avere in mente di scrivere questo libro già da tanto tempo, e non abbiamo motivo di non credergli. Del resto aveva già un esempio illustre in questo libro. Non lo so se lui lo cita, quando le sue conferenze, presumo di sì. Proprio l'inizio riecheggia un po', l'epoca è diversa. Qui siamo nel 1940, puntini puntini, non è precisato. Comunque siamo nell'immediato dopoguerra, e siamo in una cittadina che esiste realmente nella Algeria settentrionale. La città è Orano. È una città particolare, perché diciamo non ci sono... infatti inizia dicendo la città d'onore vero e brutta, ha un aspetto tranquillo, attività commerciali, eccetera, però non ci sono piccioni, questo a me farebbe solo piacere, non ci sono alberi, non ci sono giardini, eccetera, eccetera. E il passaggio delle stagioni si sente, si vede solo dal cielo. Già questo incipit è piuttosto interessante. Dicevo però che le vicende che si narrano, appunto è lo scoppio di un'epidemia di peste in questa piccola città, che viene immediatamente circoscritta, chiusa, sbarrata, non si entra, non si esce, riecheggia molto, appunto, mi ha ricordato il libro di Camus, scusate, di Oran Pamuk. Comunque, è chiaro che a questo libro attinge come ispirazione, è giusto del resto, se uno scrive un libro di un determinato tipo, è più che legittimo ispirarsi ai classici che trattano il medesimo argomento. Ecco, quello che mi è piaciuto moltissimo di questo libro è innanzitutto il tipo di scrittura, perché mentre il libro di Oran Pamuk io non sono nessuno e non voglio fare assolutamente, non sono in grado nel modo più assoluto di fare alcun paragone, ma semplicemente come lettrice, il libro di Oran Pamuk, secondo me, si colloca tra i libri bellissimi, il libro di Camus, senza timore di sbagliarsi, si colloca tra i capolavori della letteratura. Questa peste che scoppia, scoppia in una cittadina felice, come è sempre felice lo status prima che avvenga una disgrazia. Ci siamo passati anche noi, diciamo, molto recentemente, tuttora il flagello non è debellato al 100% e le sensazioni che si provano leggendo questo libro riecheggiano per ognuno di noi che si accosta a questo volume, sensazioni già provate a partire dal 2020. La paura, la paura che succeda qualcosa alla propria famiglia, a se stessi, la paura di essere separati, la paura per chi si dedica ad attività commerciali e il danno all'attività, perché logicamente i negozi o vengono chiusi o si chiudono spontaneamente perché i gestori sono ammalati, oppure vengono chiusi dalle autorità per frenare il contagio. Le famiglie vengono separate, chi è colpito dalla peste viene strappato alla sua famiglia e portato nei centri di cura e gli altri vengono portati anche di forza nei centri di quarantena. Noi fortunatamente come Italia, voglio dire, ed Europa in generale non abbiamo conosciuto questo livello di violenza, ma qui il potere, anche se è esercitato da brava gente, cosa che non avviene in Oran Pamuk, però qui in realtà, anche ripeto se è il potere esercitato da brava gente, però ha insito in sé qualcosa di violento, nel senso la prescrizione è una cosa che devi fare e quindi troverai sempre qualcuno che non vuole. Ritroviamo il tema di come curare una malattia e soprattutto quando i pazienti sono così tanti, come comportarsi, che scelte fare, che farmaci somministrare, perché nella prima fase di questa epidemia che viene narrata nella città di Orano i medici e soprattutto il dottor Rio che è il protagonista, è un personaggio titanico direi, un personaggio ammirevole, meraviglioso, che direi giganteggia tra gli altri personaggi, che pure sono estremamente interessanti, tutta una piccola umanità che si aggrega intorno al dottor Rio, che pure lui stesso vive un dramma legato a uno dei suoi affetti più cari, che è la moglie, che non c'entra niente con la peste, la signora è ammalata di tutt'altra malattia. E dicevo, questo personaggio, il dottor Rio, si sente impotente e questo riccheggia molto l'impotenza dell'uomo di scienza di fronte ad un'epidemia di questa portata. Era una malattia nota anche, diciamo, negli anni 40, ma non evidentemente non c'era ancora una cura. Oggi quel tipo di malattia, se c'è qualche medico all'ascolto mi corregga, virologi che vedete i miei video, saranno sicuramente moltissimi, nel senso che, diciamo, loro non si sapeva che la peste, ripeto, quanto ne so io, è legata in realtà ad un batterio. Quindi oggi, che ancora esiste questa malattia in piccole zone del globo, tra l'altro vi stupirete anche in alcune zone rurali degli Stati Uniti, ci sono sempre tutti gli anni alcuni casi di peste, ma non portano mai a morte, perché si sa come curarla. Si cura con degli antibiotici. Presumo che non siano antibiotici all'acqua di rose, perché è una malattia sicuramente molto grave, però si possono curare, addirittura in qualche caso, se ho capito bene, al domicilio della persona senza ricovero. Con una profilassi, presumo, per i congiunti e quant'altro. Ecco, qui non si sapeva ancora, quindi l'unica cosa era fare delle cure palliative, che il dottor Rieu non esita a mettere in atto, ma direi uno dei temi centrali è l'impotenza dell'uomo di scienza, con cui sicuramente l'autore si schiera, è qualcosa che mette a disagio, perché lui è nato per aiutare, per salvare, per guarire. Infatti, viene riportato il pensiero del personaggio che dice, di solito andavo presso una famiglia e con un'iniezione e delle pillole il problema era risolto. Io uscivo da quella casa, mi seguivano le benedizioni da parte dei congiunti e del malato stesso. Adesso invece, appena mi vedono, mi maledicono, perché sanno che io tutt'al più potrò mettere in atto delle cure palliative e soprattutto dovrò strappare con la persona l'affetto dei suoi cari e mettere tutti in isolamento o quarantena, insomma quello che è. E questo lo mette parecchio a disagio, mette a disagio anche noi lettori che leggiamo di questa sofferenza. Eppure in mezzo anche a questa popolazione che non accetta, che si ribella, si dibatte, ci sono anche alcuni personaggi splendidi che accettano le regole e anche quando saranno colpiti molto da vicino, in particolare c'è una buona parte del libro che viene dedicata alla malattia e al decorso della malattia, di cui però non vi anticipo nulla, e che riguarda un bambino è qualcosa di veramente straziante. Questo segnerà parecchio il dottor Riu, anche le persone che lavorano con lui. La cosa interessante appunto è vedere questa come posizione dell'uomo di scienza e dall'altra la posizione degli uomini. Sì, i protagonisti sono tutti maschi, ve lo dico, le donne sono di contorno affettivo, insomma era l'epoca, non lo rimprovero certo, l'autore poi chi sono io, allora rimproverà qualcosa, adesso siamo seri. E quindi tutte le persone che vengono aggregate, perché lui crea con gli altri medici, un gruppo di volontari, tra questi volontari ci sono anche dei personaggi che non ti aspetteresti mai, che aderiscono. Quindi abbiamo chi fa affari con la peste, chi rinuncia anche ai propri affetti volontariamente per rendersi utile, chi si sacrifica fino al sacrificio di se stessi, ucciso dalla fatica e dalla malattia. E tutto questo è realmente, devo dirvi, emozionante. Proverete emozioni vere leggendo questo libro, forse accentuate dal fatto di questa nostra recente tragedia. La grandezza dello scrittore sta proprio in questo, credo, nel raccontarci questa varia umanità e credo soprattutto che il tema centrale, io non ho letto nessuna recensione, niente di niente, quindi farina del mio sacco, stupidate tutte mie. Mi sembra che il tema centrale sia come un evento che noi sappiamo spaventoso, perché per una comunità due sono gli eventi spaventosi, l'epidemia e la guerra. Qui che vivono questa epidemia spaventosa, gli esseri umani, no? Ne vengono scossi, flagellati direi e hanno reazioni particolari, no? Ripeto, c'è l'eroe, c'è chi ha paura, c'è chi scappa, c'è chi fugge, c'è chi si ribella, eccetera, eccetera. Chi infligge punizioni perché ritiene che il potere vada esercitato col pugno di ferro, eccetera. E credo che questo sia un tema centrale, quindi come reagisce l'umanità di fronte, o una piccola comunità, insomma, un campione di umanità di fronte ad uno dei massimi flagelli che lo possono colpire. Mi sembra che questo è un tema centrale. L'altro aspetto, ed è sicuramente un tema molto interessante, l'altra cosa è la bravura dello scrittore che si riconosce anche nelle descrizioni, nelle banalità, quelle cose che noi viviamo tutti i giorni, che sono totalmente banali, che però il creativo rilegge, lo fanno anche i pittori, gli scultori, eccetera, e i musicisti, quindi rileggono la realtà in maniera originale, trasformandola in arte. Mi ha colpito questa stupidissima, come dire, questo aspetto proprio minore, no? E quindi c'è questo calciatore, che in questo momento appunto tutte le attività ovviamente sportive sono sospese, e c'è questa cosa, e secondo me questa frase, per esempio, come descrivere una bibita? Vabbè. Il cielo era in parte coperto e, non voglio far spoiler, il nome del personaggio, con il naso per aria osservò col rammarico che il clima, né piovoso né caldo, era l'ideale per una bella partita. Provava a rievocare l'odore di unguenti negli spogliatoi, le tribune gremite, le maglie dai colori vivaci sul campo rossiccio, i limoni dell'intervallo e la gassosa che solletica di mille a culei freschi le gole assetate. Lasciamo perdere, chiunque di voi sia entrato in uno stadio, abbia partecipato, che so, a un concerto, eccetera, si riconoscerà nel fatto che una delle cose che si prova è avere sete, e quindi ecco qui la gassosa che solletica di mille a culei freschi e le gole assetate, mentre noi avremmo detto la gassosa che pizzica le gole, no? Boh, non so, comunque straordinario. E l'altra cosa che vi voglio leggere è un po' il finale, non vi dico però chi dice questa, chi dice, chi fa queste riflessioni, nel senso che dice, vabbè, tanto questo si sa, no? C'è una epidemia inizia poi a una fine, però, dice, sapeva tuttavia che questa non poteva essere la cronaca della vittoria definitiva, poteva essere soltanto la testimonianza di quel che si era dovuto fare e che contro il terrore e la sua arma instancabile forse avrebbero ancora dovuto fare, nonostante le lacerazioni personali, tutti gli uomini che, non potendo essere dei santi e rifiutando di accettare i fragelli, si sforzano tuttavia di essere dei medici. Ascoltando infatti le grida di esultanza che si levavano dalla folla, si levavano, scusate, dalla città, il personaggio si ricordava che quell'esultanza era sempre minacciata. E sentite il finale, non vi leggo l'incipit ma il finale, poiché sapeva che quel che la folla in festa ignorava e che si può leggere nei libri, cioè che il bacillo della peste non muore e non scompare mai, che può restare per decenni addormentato nei mobili, nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere da letto, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti e nelle carte, e che forse sarebbe venuto il giorno in cui, per disgrazia e monito agli uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi topi e li avrebbe mandati a morire in una città felice. Non dico altro. Pelle d'oca, pelle d'oca. E dice ma i topi? Sì, perché la peste viene portata dai topi, perché i topi hanno le pulci e quindi portano, propagano la malattia. Meraviglioso libro, consigliato, beh, sa va a san dir, ma attenzione perché qualcuno mi ha detto ma caspita ma leggi sempre i libri che ti piacciono? Il libro che sto leggendo adesso piace mica tanto. Cioè, non è brutto, ripeto, ma chi sono io? Ecco, e ci sono le mani di diverse scrittrici, anche grandissime scrittrici, scrittura meravigliosa, ma ci sono dei ma, ma devo ancora finirlo e ne parleremo presto. Amiche e amici, fate sempre quello che vi fa stare bene. Il rossetto è Mec, eh? Mec. Io l'ho detto che il rossetto è, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto. Alla prossima!